Si doveva arrivare perché, mi guardo onestamente, non si vuole, no, 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 stai attassando su un uomo, lo stai spremendo a ogni occasione, vogliendo gli esordini alla tasca, per voi che cosa? Per voi, per voi, non si vuole, 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 non si vuole. Certo, in maniera o almeno, ancora, ma non si vuole, non ci sono, come si è finito, io ti conoscenze, viene un po' dipensato, dipensionato, ma non si dice, o meno, non si dice, o di togliere la pariera o di far solo su carità, la gente sarà più curva, la gente sarà molto più curva, ma in ogni caso poi da diventare un fatto, un fatto normale, Se è un'altra parte che andava da salire, 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 ci prende, salire, poi c'era un'altra parte che non era, e poi c'erano dei partiti doveva essere il Givettino L'affatto li avevano fatto in questa maniera e iniziava l'affatto, la cosa affatto, ma non c'era che era a altri fatti, veramente, però si sapeva in partenza e dopo li avevano a fare per essere variati, però non c'era più di cose, ma se il documento lo prendeva veramente, ma sempre non poteva andare ora, e quindi era tutto legale, poi si assomaggiavano sempre troppe, sempre impreviste, sempre dove stanno a stoppearlo e ciò che cazzo, dipende poi e poi se ce la stavano, io faccio sante che aveva già buona parte, e soprattutto fa parte di questo flutesto, è più una realtà che noi stiamo vivendo, ma sto molto legato e non lo ho dato, e lei è venuto l'occhio, ma non è? Sì! 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 non c'è mangiato nel nostro contesto diciamo si facevo sempre della stupore di bambi perché oggi è la cadubina dovete andare in farmacia a comprare medicinali perché ormai la sanità non te li dà più io vorrei vedere quella casa che non fa in farmacia non ce la so non ce la so perché ci sono non c'è stress, non c'è nera io ho qualche non puoi sempre fare per il periodo facendo la stessa città è un progetto diventa due mila e il problema è che io non mi avevo solo facendo quasi al piano tempo non proprio al piano tempo guarda il sistema di campo veramente i problemi non c'è cento meira non c'è cento meira non c'è ho il problema e allora mi erano ragione anche dopo tante volte che eravamo in piazza che si fattava anche su un'altra testa ma eppure per tutta la regione ma per tutta la regione non è tutta la minima un po' lì la massima era questa regione alta ma la regione ma la regione non è un problema si stanno con un stress dunque siamo un po' presi cento cecchi in maniera minore ma non davvero non sono all'armata ma fuori una 10 a 40 all'aprile allora io non lo potevi prendere me ne siano me ne siano in relazione al sistema e anche io cominciai a prendermi c'è stata una mi chiede una mezza metro mi avevano detto tra i cittadini invece lo vediamo tra i cittadini e mi scavava giù che non era diciamo una vera però io ho detto questo che andavo a comprare che costano un ottio di soldi io ho detto che io con i ticket che pagavo i ticket che pagavo i soldi cioè i soldi che pagavano i soldi che pagavano i soldi che pagavano diciamo io per amare che c'erano i soldi che pagavano i soldi che pagavano la stessa e la sicurezza Abbiamo scoperto che potevano dire Dove la necessità per il bisogno non c'è Esatto Dove la necessità non c'è Io per una volta pensavo La stazione Si ne venivano tanti Perché la carta Aviano via a casa Perché era In un periodo bello Devo stare da un'apparata Ma sentiamo come Arrivandosi un po' di due Poi magari Capitavano un periodo di concentrazione E gli chiedevano Ma poi c'erano davanti E poi mi hanno fatto Certificato che potevano accendere Prezzo esterno E c'erano Il problema perché era un fatto nuovo Era un fatto nuovo E a me magari c'erano Un'assistenza perché Non c'erano capito Il rumore dell'Eca Ma poi E' un'assistenza Un'assistenza E' un'assistenza Ora Un pesito Per vedere Tutta questa gente Desse là Capito Il rispetto Ed era E' un'assistenza Perché non erano Provogative non era necessario non era la cederina quando non c'era il pollo perché se non c'era il pollo lento il pollo lento non c'era ah vieni che lo cio lento vieni che si sono succeduti nel largo dei tempi dai tra chi abbiamo avuto noi chi era? non veniva messo e chi era più facile di rubare una di loro lo sapeva a ogni settore c'era un tipo di specialista anche se c'era un pollo settore la difesa adesso non è sto fatto e non è niente quindi mi sceglievo una darte perché sapevano che sono i genitori capaci di rubare anche perché voi che trasportirci non ci guadagno niente la nostra realtà è questa speriamo che io c'è davanti e fuori perché siamo pesi male ma lì su come all'evento nazionale siamo essi male ma l'evento poi lavoriamo allora questo è molto lungo il terzo lato questo può essere anche inattivo con tutte le tassi ma la casa vado non lo so oggi i resti passivi sono tanti e tu non riesci ad accortizzarti che non è un problema e questo è un problema ma è questo ma non riesciamo ad accortizzare ma non riesce 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 Non ho regolato il Messina Ora io non ho capito una cosa Parlando di Suceropeia Viene davano volantene All'integrativo E' l'integrativo E' l'integrativo Sì, sì, sì E' un po' che d'alcone dice Perché l'integrativo L'integrativo Dice che si parla di Rasi in salvo in fronte E' un'altra parte E' un'altra parte E' un'altra parte E' un'integrativo Responsile E' un l Wise Oppure Sì Ci puoi essere neanche più attivo Sì Ti posso vedere Eh Ci puoi vedere Si, poi si vede una obbligazione, anzi azione privilegiata, ma le privilegiate che non si tratta. Non bisogna vedere la fine del lavoro. E poi si può parlare di privilegi, di privilegi su che cosa, come, quanto? Sono cose che non ho capito, sono cose che lasciano la mano in bocca, non sono delle assurdità. Ancora, l'accordo è già fermato, ah, da dove hanno fatto, tutte volte. Io gli dicevo, ti accorgi, quando ci ci cade tutto il rischio, un po' così, o niente altro. Prenditi la palla nelle mani come se l'avessi ottenuto avuto. Allora, ormai messi con i paraggi, non ci metti questa trattazione. Secondo me, il periodo della contrattazione con il resto è morto. Ma questo è un ammorto di ammorto. Gli ammorto di ammorto di un paese, perché, se vanno tu che poteva, che si ritrovano a con 4 veglie, non c'è parte della手a, ma non c'è parte, ma non c'è parte. È un, perché non c'è parte. Qu'è il rio? È un'imorto di un paese, ma non si tratta. Non c'è parte. Nocali, non c'è parte, ma non c'è parte. Ma non c'è parte, ma non c'è parte. Quindi, è un'imorto di ammorto scoporrò. C'è parte di ammorto di un'imorto. un po' di giorni che, ma poi è stato appesato che c'è stato di acqua, l'acqua, è stato un pene provvizio, c'è l'acqua, se non cominciava a risicciare questo periodo di fuori, io mi ricordo quando c'è stata quella siccità, noi a Fismade avevamo una docina che dava invece 250 litri di acqua al secondo, in estate, poi usciravano 10 metri giù, per spesso alla giornata 5 metri, se ne è stato pesato, non è stato un po' di periodi, quando c'è poi la società, che arrivo a dare 60 litri di acqua, è un quarto, è un quarto, di acqua al secondo, in generale c'era da un po' quasi, no con le U di sacra, c'era che ora con questo, quando il top, da acqua, a acqua a paletto, il meno e a 60 litri di acqua al secondo, ci è stato portato a acqua al momento, poi a diventato anche quella delle domini, poi c'è dobbio, perché abbiamo avuto la data col forse, guarda come io allora ero e mi occupavo anche di queste rogne, perché credi che per bene io le ho rogne, rogne grosse questa vede che i pazzaleri sono proprio la torgenza, solo perché non c'era l'alto, ma non c'era l'alto che era una torgina, è un potaggio, è una bella leggera, ma c'è un po' l'acqua se l'estate è proprio 150-140 secondi se l'estate è un po' l'acqua, è un po' l'acqua, è un po' l'acqua, è un po' l'acqua e mi spiegavano che a destra è il camore, come è vero che ci vogliono anche per fare che hanno un po' l'acqua, è pure vero che ci vogliono anche per fare un po' l'acqua e per arrivare a quel livello lato, non puoi sciogliare un po' l'acqua o una catena di miseria che ne aveva ci vogliono altri prima che sempre pristere, infatti l'anno successivo quando poi ci dovuto avere, anche dopo, poi, non è successivo, non è successivo, non è successivo non è successivo, non è successivo, non è successivo, non è successivo non è successivo, non è successivo, non è successivo, non è successivo non è successivo, non è successivo, non è successivo, non è successivo Siamo a volerle con gli Audi. Lo spenderebbe prima di fare il 7,5 o 5,5. Non c'è un problema che è un mio. Chiama il Audi, ma non c'è un'unica. Anche c'è stato... Ci siamo un pezzo dove mi ha preso un pavo delle... Si, è tutto da bene. Un pezzo internazio in tutto il territorio. A lungo il Comandatore e il Comandatore. Non ci sono stati affatto. Non ci siamo lì. C'è un buceo raro. Ci siamo venuti tra la Chihuahara. C'è una manchina che si trovi più bici? Ci sono stata un'abuna. Si c'è un bucciano che non ho sapezzato a pesce? Si sono stati inserente. Ci sono stati inserente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.